La Società Scientifica di Diritto Internazionale dell'Unione Europea ha organizzato a Salerno nel campus universitario ieri e oggi presso i saloni della provincia un convegno di studi dedicato a cittadinanza, cittadinanza e nuovi status dal punto di vista dell'evoluzione della nozione di cittadinanza sotto la spinta da un lato dei flussi migratori che tendono a creare nuovi status di non cittadini dall'altro punto di vista per effetto di nuove modifiche che si sono verificate rispetto agli status tradizionali. In questi due giorni il convegno ha analizzato dal punto di vista del diritto costituzionale, del diritto internazionale e del diritto dell'Unione Europea la parabola evolutiva della nozione di cittadinanza, cittadinanza o cittadinanze, evidente il riferimento al dibattito politico in corso sulla possibilità di modificare la legge italiana in tema di cittadinanza che risale al 1992 con un percorso di modifica dei requisiti di attribuzione della cittadinanza che fanno riferimento oltre che allo ius sanguinis anche al cosiddetto ius soli e ius culture.